Contropiede del Montesilvano, palla bene, ecco la nostra Erika che ha realizzato il primo gol è una spina nel fianco della difesa del Montesilvano, ecco Erika prende il pallone, numero 3 Ah, traversa, traversa, traversa di Eri E tu Eri, non lo farai ragionare, non lo farai ragionare Manca, no, l'arbitro ha segnalato due minuti di recupero, adesso siamo agli ultimi secondi e terminerà il primo tempo con il risultato di 2 a 1 a nostro favore Respira, respira E tu Eri, e tu Eri E tu Eri, vai E tu Eri, non lo farai ragionare Vai, vai Ancora Senza fallo Senza fallo Oh, oh, mani Il direttore di gara ha fischiato la fine del primo tempo 2 a 1 per la Virtus Castelfrendano Ci rivediamo al secondo tempo